Abbiamo ieri giustamente sottolineato la vittoria incredibile della Juventus sul campo dell'Ipsia però adesso andiamo al ritroso e andiamo a riprendere le partite che si sono giocate anche ieri sera delle altre italiane perché da una parte la Juventus ha vinto contro l'Ipsia ma ha vinto anche un'altra italiana, ha vinto l'Atalanta sul campo dello Schalke, ovvero in realtà in campo neutro perché si è giocato sul campo dello Schalke una partita praticamente a senso unico sulla falsa riga anche della vittoria abbastanza netta dell'Inter contro la Stella Rossa l'Atalanta ha dominato contro una squadra che obiettivamente parlando non può essere al 100% né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista mentale, visto ancora tutte le tensioni che ci sono in Ucraina non potendo giocare sul proprio campo, facendo dei voli estenuanti per riuscire a giocare in Europa e quindi anche queste competizioni importanti un'italiana, il Boni la prima giornata non era andato oltre il pareggio e l'aveva sottolineato come un passo falso l'Atalanta questo passo falso non lo fa e vince nettamente 3-0 bene a tutti ragazzi da Frantuf, per riguardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate like, di commentare, di condividere il video per supportare il canale, vi ringrazio e anticipo uscirà nel pomeriggio anche un video per quanto riguarda la bella partita, la buonissima prestazione del Bologna ad Anfield contro il Liverpool, una serata storica per i tifosi del Bologna ma parlando un po' di più dell'Atalanta, una vittoria da big quasi europea un'Atalanta cinica, cattiva, che non ha lasciato scampo allo Shakhtar Donetsk una partita, sono quelle partite queste qui, quelle che si devono vincere per forza come magari la prossima del Milan contro lo Slovan Bratislava come quella vittoria che doveva fare l'Inter contro la Stella Rossa e l'ha fatta queste sono quelle partite che in Champions League devi vincere assolutamente per riuscire ad aspirare comunque ai posti più importanti perché lo Shakhtar molto probabilmente secondo me non riuscirà a rientrare nelle prime 24 quindi non si qualificherà neanche per i sedicesimi di finale e quindi comunque essendo una squadra di quelle che non si qualificano tanta dovrà vincere per forza è arrivata una vittoria molto larga, molto tranquilla perché l'Atalanta ha vinto 3-0 non rischiando praticamente nulla ha colpito due pali, una partita che poteva finire anche in maniera molto larga alla fine negli ultimi 30 minuti l'Atalanta si è quasi accontentata di un risultato già acquisito e che la porta a quattro punti in classifica dopo comunque una grande impresa in casa contro l'Arsenal riuscita ad arrivare ad un pareggio che poteva essere tranquillamente una vittoria visto ricordiamo sempre il calcio di rigore prima e il colpo di testa fallito da Reteghi nel giro di 10 secondi però questa partita comunque doveva dare delle indicazioni importanti all'Atalanta sia dal punto di vista mentale visto che l'Atalanta comunque anche in campionato non stava venendo da un periodo sicuramente positivo visto che aveva perso malamente contro il Como ha pareggiato contro il Bologna all'ultimo secondo dopo un secondo tempo praticamente quasi un intero secondo tempo giocato in un in più e soprattutto con la peggior difesa della Serie A quindi sicuramente non un inizio di stagione esaltante se escludiamo magari il pareggio come detto in casa contro l'Arsenal se in campionato l'Atalanta concede gol praticamente a tutti tantissime occasioni in Europa l'Atalanta è ancora in battuta ed è quasi un qualcosa di incredibile la Juventus in campionato ha preso 0 gol in Europa ne ha presi 3 e invece l'Atalanta che in campionato non so quante ne abbiavesse forse 12 e nelle prime 6 partite aveva una media di due gol subiti a partita in Europa ha giocato contro l'Arsenal e Shakhtar e ha subito 0 gol e ha subito anche pochissime occasioni da gol poi se andiamo a vedere perché l'Arsenal non è che abbia avuto tutte queste occasioni idem con Patate la partita di ieri contro Shakhtar quindi sappiamo che in Europa può succedere e cambiano completamente gli equilibri di tutto un'Atalanta estremamente solida che ha fatto una vittoria di grandissimo spessore ha segnato nel primo tempo velocemente vi dico i gol ha segnato nel primo tempo Jim City dagli sviluppi di calcio di punizione un cross in mezzo un liscio se non mi sbaglio non mi ricordo forse di Luckman Jim City controlla e poi calcia con il destro poi ha segnato lo stesso Luckman dopo aver colpito una traversa incredibile poi nel secondo tempo a inizio del secondo tempo Villanova su un assist bellissimo di Zappacosta ha chiuso completamente i conti dopo lo stesso Zappacosta sul 3-0 colpirà anche un palo incredibile sul primo palo un'Atalanta come detto che porta a casa questi tre punti e in questo momento comunque come detto si candida anche lei ad un posto da protagonista in questo Super Junior di Champions League perché noi molto spesso tendiamo a sottovalutare anche le nostre squadre mettendo esempio al di sotto magari anche di qualche squadra più rinomata dal punto di vista del nome però nel frattempo l'Atalanta negli ultimi anni ci ha fatto vedere che nonostante comunque non abbia un palmares internazionale clamoroso sia una squadra che se la può giocare praticamente con tutti ha vinto l'anno scorso ad Anfield quando in Liverpool 3-0 in questa Champions League sta facendo un percorso incredibile questa Atalanta che la prossima giornata giocherà in casa contro il Celtic che anche questa è una di quelle classiche partite come ho detto prima che devono essere assolutamente vinte per esempio queste partite non le ha nel suo percorso se non mi sbaglio la Juventus perché ha tutte partite abbastanza complicate perché la Juve è anche la prossima dopo aver vinto gramosamente contro l'Ipsia dovrà giocare contro lo Stoccarda invece il Bologna che purtroppo rimane fermo a un punto in classifica alla stessa cosa della Juventus avrà una partita molto complicata a Birmingham contro l'Aston Villa che nelle prime due giornate ha fatto sei punti ieri abbia attuato clamorosamente anche il il Bayern Monaco qualcosa che non succedeva non mi sbaglio dal 2017 il Bayern Monaco non perdeva in elginone di Champions League quindi l'Atalanta vola a quattro punti classifica aggancia l'Inter e si mette lì in questo momento ad aspettare comunque il proseguo il proseguo di questo super girone che si fa sicuramente sempre più bello e la prossima c'è un'altra partita per l'Atalanta che deve essere che dovrà essere assolutamente portata a casa e l'Atalanta ha tutte le capacità secondo me anche per lottare per i primi otto posti non sarà facile perché obiettivamente parlando ci sono tantissime squadre che se la possono giocare e sarà molto tirata ricordiamo che l'Atalanta ha altri due scontri molto molto importanti e molto difficili perché l'Atalanta dovrà giocare contro Real Madrid e Barcellona non due partite proprio delle più belle e delle più semplici contando che il Barcellona in campionato sta facendo sfraceli e Real Madrid che ve lo devo dire l'ha già affrontato in Supercoppa Europea e ci ha perso 2-0 però è sempre Real non c'è niente da fare e quindi queste partite sono fondamentali per passare il turno poi se dovesse arrivare se dovessero arrivare i primi otto posti sarebbe ancora meglio ma in questo momento la cosa importante è qualificarsi ed entrare nelle prime 24 e l'Atalanta a mio avviso ci entrerà anche ampiamente fatemi sapere nei commenti un po' voi cosa ne pensate della partita dell'Atalanta e dove secondo voi finirà in classifica in questo Supergione dell'Atalanta io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciare like di commentare di condividere il video di andare in descrizione dove ci sarà il canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda gli assunti da seriare della Champions League notizie di calciomercato consigli su pantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport noi ci vediamo con un prossimo video bella ciao